La notizia della bocciatura da parte della Corte Costituzionale del Jobs Act nella parte in cui prevedeva in caso di licenziamento illegittimo ed ingiustificato il versamento al lavoratore di una semplice indennità economica calcolata solo sulla base dell'anzianità di servizio rappresenta un'ottima notizia per tutto il mondo del lavoro e per tutte quelle forze politiche che da sinistra si sono sempre battute in Parlamento e nel Paese contro una disciplina sbagliata e vessatoria nei riguardi dei lavoratori. La consulta ha ritenuto quella previsione confermata tra l'altro anche nel cosiddetto decreto dignità voluto recentemente dal governo gialloverde di Salvini e di Di Maio contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Questa sentenza di fatto travolge uno dei punti centrali del Jobs Act e sconfessa l'operato degli ultimi governi del PD a trazione renziana. Ora per proseguire in quelle battaglie a favore del lavoro e a tutela dei lavoratori a iniziare dal ripristino dell'articolo 18 che hanno consentito questo importante risultato è ancora più necessario lavorare per ricostruire un fronte largo di sinistra in grado di fronteggiare la deriva di destra che sta prendendo sempre più piede del nostro Paese e contro la quale tutte le forze progressiste e democratiche devono fare fronte comune.